Buongiorno, Ivan. Come va la giornata? Vedo che sei un po' arrabbiato. Quello che è successo? Certo che sono arrabbiato. Capo, qualcuno mi ha rubato il cellulare. Non riesco a trovarlo. È qualcosa di veramente brutto. Ma sei sicuro che qualcuno l'abbia rubato? Voglio dire, forse l'hai dimenticato a casa tua o in qualsiasi altro posto. Non credi? Nu? Ovviamente nu. So di averlo portato da casa. Sono sicuro che non è a casa mia. Relax. Troveremo il tuo cellulare. Non preoccuparti. Se qualcuno di questo ufficio l'ha preso, lo troveremo. Adesso cosa stavi facendo quando l'hai perso? Mi dispiace. Quando qualcuno l'ha rubato. Stavi usando il cellulare? Stamattina stavo controllando il cellulare. Ma l'ho lasciato nel mio armadietto ed è semplicemente scomparso. Bene. Poi qualcuno l'ha preso dal tuo armadietto. Lo troveremo. Chiederemo a tutti in questo ufficio. In questo modo lo troveremo. Non preoccuparti. Lo spero. Perché è un cellulare davvero costoso. Molto costoso. Ciao, Patrizio. Spero che tu stia bene. Abbiamo alcune domande da farti. Per favore. Ciao, Capo. Ciao, Ivan. Stavo scrivendo alcuni documenti importanti. Ma questo è. Quello che è successo? Perché sei così arrabbiato, Ivan? Sì, Ivan ha perso. O meglio, ha detto che qualcuno gli ha rubato il cellulare. E stiamo indagando per scoprire chi fosse. Cosa stavi facendo quando l'ha perso? Non lo so. Ho lavorato tutta la mattina. Stavo scrivendo un documento. E prima che tu arrivassi, stavo finendo con un rapporto. Ti ricordi che mi hai detto di farlo? Sì, ricordo. Ma dobbiamo trovare quel cellulare. Cosa stavi scrivendo? Te l'ho già detto. Stavo scrivendo alcuni documenti importanti e il rapporto di cui mi hai parlato. Quindi, mentre facevi questo, non hai visto niente di strano o il cellulare di Ivan? No. Non proprio. Stavo lavorando qui e non ho visto niente. Mi dispiace tanto. Ma è strano che qualcuno abbia rubato qualcosa qui. Non è mai successo, capo. Ivan, forse hai semplicemente dimenticato il cellulare a casa e non te lo ricordi. Hai già chiamato qualcuno della tua famiglia per chiedere se il tuo cellulare è lì? Che cosa? Cosa intendi? Che stavo solo inventando la storia del mio cellulare? So che qualcuno l'ha preso. Stamattina stavo usando il cellulare quando sono arrivato qui. Stavo parlando al telefono con mia sorella e poi controllavo anche il mio Instagram. Non sto mentendo. Qualcuno l'ha preso e scoprirò chi è stato. Prometto. Beh, mi dispiace tanto. Ti è successo quello, fratello. Spero che lo troverai presto. Grazie, Patrizio. E se riesci a vedere qualcosa, chiamacci subito. Certo, capo. E ora che me lo dici, ho visto Mark mandare un messaggio qualche minuto fa. Stava usando un cellulare nuovo. Non dico che l'abbia rubato, ma... Forse ha confuso o voleva semplicemente farti uno scherzo. Non lo so. Puoi chiederglielo. Grazie. Glielo chiederemo subito. Grazie mille per il tuo aiuto, Patrick. Ciao, Marco. Come va la giornata? Hai un minuto? Vogliamo parlare con te. Ciao, capo. Sto bene. Stavo giusto chiamando alcuni nuovi clienti. Ebbene, stavamo cercando il cellulare di Ivan. Ha detto che qualcuno di questo ufficio l'ha preso. È un peccato. Ma non penso che sia possibile. Non facciamo mai questo genere di cose. Sì, lo sappiamo. Ma vogliamo chiedertelo comunque. Hai visto qualcosa? Spero che. Non ho un cellulare nuovo. Stavo leggendo alcuni giornali. Roberto. Va bene. Sai se quel cellulare è nuovo? Uno costoso. Ad essere sincero, non ne so molto di cellulari. Ecco perché stavo controllando il suo telefono. Ma mi sembrava molto moderno. Suppongo che sia costoso. Puoi chiederglielo. Stava facendo colazione circa un'ora fa. A quest'ora deve essere al lavoro. Grazie mille, Marco. Ci hai aiutato molto. Parleremo con Robert adesso. Ovviamente troverò la persona che l'ha rubato. Assicurati di questo. Ciao. Certo, ma sei sicuro che qualcuno ti abbia rubato il cellulare? Forse l'hai dimenticato. Non dico che tu stia mentendo, ma forse stavi usando il cellulare e l'hai dimenticato da qualche parte. Lo saprai se lo avessi perso o se lo avessi dimenticato da qualche parte. Non credi? Sicuro. Dico solo che forse devi cercarlo molto bene. Non lo so. Ad esempio, il mese scorso camminavo veloce perché dovevo consegnare dei documenti. Sono dovuta andare un po' in bagno e poi sono tornata nel mio ufficio. Quando me ne sono reso conto, non avevo il cellulare con me. Sono impazzito. Ero disperato. Stavo andando nell'ufficio del capo per dirgli che qualcuno l'aveva rubato. Ma poi mi sono ricordato che ero andato in bagno e che, forse l'avevo lasciato lì. Quindi sono andato a controllarlo e, indovina un po', era lì. Ero come uno stupido. Pensi che io sia stupido o cosa? Stavo usando il cellulare e poi l'ho lasciato nell'armadietto. Ti credo. Ivan. Ma va bene se andiamo a controllare in bagno. Ma poi chiameremo la polizia. Ma poi chiameremo la polizia. No, ho abistanza. Vedi? Non c'è niente qui. Chiama subito la polizia. Ma, Ivan, non è il tuo cellulare quello laggiù. Controllalo. Il mio cellulare. Ahaha. È così divertente. Vero? Era lì, per tutto questo tempo. Ebbene, chi ha fame? Ebbene. 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 Grazie.